Perché Mezzoiuso è un comune che va visitato, è un comune dal punto di vista amministrativo, è un comune virtuoso, purtroppo abbiamo qualche problema di comunicazione, ma venite a vedere Mezzoiuso perché ne vale la pena e non siamo un comune maffioso. Su questo siamo tutti d'accordo? Assolutamente sì. Credo che tutti siamo d'accordo, vi abbiamo anche fatto vedere dietro alle nostre spalle e alla bellezza di questo Paese, io mi auguro che quando si spengono queste telecamere qualcuno possa ragionare più serenamente, ma io ribadisco che starò sempre vicino a queste tre donne, in ogni caso, sempre queste tre donne. Ringrazio le forze dell'ordine che hanno fatto un grossissimo lavoro questa sera, sono venute da tutte le parti per garantire la sicurezza, ringrazio la produzione della Sette che ha fatto uno sforzo enorme per fare una trasmissione esterna dagli anni di Santoro che non si facevano, sono costi importanti, costi quasi da servizio pubblico, ma noi questa sera pensiamo di aver fatto una serata da servizio pubblico, come spesso capita da fare non solo a me ma a altri colleghi sulla Sette. Grazie a tutti i nostri ospiti, grazie Rita e buonanotte a tutti gli amici qui di Mezzoiuso e grazie anche a chi è venuto qua e ha contestato, ma io sono per la libertà e per la dialettica. Grazie.